Ho scelto l'Istituto Bertrand Russell di Guastalla perché mi ha convinto sin da subito con l'offerta formativa che mi è stata presentata. In particolare consiglio il mio indirizzo, ovvero Scienze Umane, che mi ha dato una formazione completa su come costruire un discorso e un mio pensiero personale e soprattutto rispettare l'opinione altrui. Se dovessi definire con una parola il mio percorso, direi domani, perché mi ha formato in modo molto completo per quello che sarà il mio futuro lavorativo e in modo più prossimo per quello che sarà il mio futuro in campo universitario. Consiglierei la mia scuola dal momento in cui offre una prospettiva di crescita e di sviluppo personale in un ambito di internazionalità e di multiculturalità. Mi ha donato quindi molte consapevolezze sulla realtà che ci circonda, quindi una maggiore lucidità appunto su tradizioni e culture diverse. Se dovessi usare una parola per descrivere la mia esperienza, direi una crescita e aggiungerei anche consapevole. Per quanto riguarda invece gli aspetti più caratterizzanti, potremmo dire, della scuola, a parte la presenza della madrelingua settimanalmente, che appunto aiuta a costruire una lingua più utilizzata nella realtà, importanti sono anche le offerte degli stagi linguistici e degli scambi interculturali che appunto vengono proposti all'interno del triennio, così anche come la possibilità di accogliere studenti dall'estero. Inoltre per noi studenti molto importante è anche la proposta di certificazioni linguistiche che possiamo conseguire all'interno della scuola e che quindi ci agevola molto. Consiglierei il mio corso meccanica e meccatronica perché si frequentano dei corsi dove le materie sono moderne e hanno uno sbocco molto importante sul lavoro. Una parola per definire il mio corso è affinità. Ho scelto questa parola perché secondo me la parola affinità si lega molto alle relazioni che ci sono con le persone e anche con le materie stesse, con cui mi sono trovato subito molto bene. Questi ultimi due anni sono stati anni difficili, però i professori sono stati molto bravi nel saper gestirci e darci una base buona per il nostro futuro. L'Istituto Tecnico Economico consente una preparazione economica e grazie allo studio dell'economia aziendale, dell'economia politica e del diritto. Lo studio delle lingue straniere consente inoltre un approfondimento culturale e dei paesi che ci stanno attorno, dei paesi stranieri e anche l'approfondimento nel campo economico e economico in diverse lingue. Ho scelto questa scuola perché ero interessata all'economia, al diritto e a capire come la società moderna funzionava, che queste materie ci offrono la possibilità di inserirci nelle realtà aziendali e nella realtà odierna. Una parola che userei per descrivere il mio istituto è costruttività e resistenza. Costruttività perché l'Istituto Tecnico Economico offre uno sviluppo di un pensiero razionale nel ragazzo e offre la possibilità di entrare in una società e capire come funzionano i meccanismi moderni. Resistenza perché nel mio caso mi hanno consentito di diventare una persona più sicura e più pronta ad affrontare le situazioni che mi si interpongono nel corso della mia vita. Considererei il liceo scientifico biotecnologico perché frequentare questo indirizzo significa vivere in un mondo di razionalità, di precisione, nonché anche comunque di creatività. Si troveranno quindi ovviamente a proprio agio coloro che sono interessati ad ambiti scientifici di cui le materie principali come la matematica, la fisica e la chimica sono quelle più studiate. D'altra parte però non vengono trascurati ambiti umanistici e linguistici che seppur in minor misura contribuiscono a rendere quella offerta da questo indirizzo una formazione a 360 gradi. A questo scopo quindi grande importanza viene attribuita ai laboratori che riescono a rendere pienamente consapevoli noi studenti di ciò che viene teorizzato durante le lezioni quotidiane. Dunque l'acquisizione di esperienza e l'analisi critica e precisa della realtà sono le parole chiave che sceglierei per descrivere il percorso formativo del nostro indirizzo.